Spalle col manubrio Spalla questa, dove gira questa la spalla deve andare dietro, no, devi andare dietro al manubrio, tutto, arrivo, spiegati, bravo, devi piegare il busto un casino, bravo, la spalla, la spalla, chiodi dentro, così, vedi che gira da sola la moto? Vedi che è sempre quel merdoso lì che rompe i coglioni, è quello lì che rompe i coglioni, ma mi sta sulle palle, no, lui deve muoversi un casino perché non si muove, quindi se stai rigido fai girare la moto e basta e poi ti scappa via, le spalle! Così, gira lei! Venga, questa guarda che è già tolta, perché se tu giri le spalle, quando tu giri il coso, vedi che il culo, in automatico ti esce dalla parte giusta, è tutto lì il trucco, tu già ti muovi un casino, quindi riuscendo a, tante volte vai via perché ti sei spostato senza neanche accorgerti, però devi spostarti. bravo, gira il busto, gira il busto, così, eh c'è sul dietro, su quello lì, no, no, riuscirà mai dopo. ... quell'uomo! Dov'è il lele? adesso gli avrò che butto via quel passo di masareno. no! vengono qua! vedi che senza sasso è girato vai su di là non fare il tronco sali dietro a questo qua e esci se riesci all'indietro di modo che ti resta difficile comunque guarda